Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, una puntata in esterna. Eccoci qua, ci troviamo a Viareggio come ogni tanto capita perché andiamo a trovare l'amico Giacomo, cioè andiamo a trovare l'amico Giacomo, andiamo presso la gioielleria Pasquali Domenici di Viareggio, che è parte l'ufficiale del canale, e andiamo a vedere le novità, oggi andiamo a vedere le novità. Che novità ci sono amico Piero? Oggi lo so. Come fai a saperlo? Perché ti ho fregato oggi. Perché? Perché prima la telefonata con Marco era con Giacomo. Allora oggi andiamo a vedere delle piccole novità e poi andiamo a vedere degli orologi raccattati in giro che erano spariti, che erano finiti magari di serie limitate e Giacomo è riuscito a raccattarle in giro dai vari... Ma c'è anche una nuova concessione, è vero lo sai no? No, questo non me l'ha detto. Ecco fatto, hai visto che non sai mai niente te. Questo non me l'ha detto. Che orologio del giorno hai? Ma hai fregato di nuovo allora. È Olek Way P101. Che bello, questo qua ti l'ho fatto prendere io eh. Sì. Perché sennò a te, sennò a me piace proprio. Sì sì, questo qua è bello. Occhino il polsetto così che se lo facciamo così si vede proprio veramente alla Jean-Claude Van Damme. Tra l'altro questa era una concessione che avevi fatto prendere tu a Giacomo. Eh appunto, sì è vero. Bellissimo. Invece io cosa c'ho? Il mio bellissimo Longini Hydro Conquest con la ghiera rossa simpaticamente, 41 mm e te sei invidioso. Sì. Andiamo. Andiamo. Aspetta, c'è questo bellissimo... Bellissimo. Ah scusami ma oggi sembri il mio avvocato. Ah sì, va bene. Anzi lo saluto. Ciao Jacopo, ciao. Andiamo. Semri veramente il mio avvocato eh. Con questa barba, con questa giacca. E comunque insomma c'è anche questa nuova piccola concezione di un piccolo brand, di un micro brand. Perché non me l'ha detto Giacomo? Perché? Perché te non... Si è dimenticato. Poi ci saranno che gli usati, vedrai. Andiamo un po', dai spulciamo un po' tra gli orologi cosa esce fuori. Ma prima? Caffè. Dalla nostra amica. Venite a trovarla e pagateci il caffè. E lasciateci pagato il caffè. C'è la testa bella tonda. Chi? Tu. Complimenti per la barba che ti dona molto. Che cosa? Mi devi fare la recensione sull'abito? Certo. Oggi giacca d'avvocato, barba d'avvocato, camminata da Piero. Chi lo paga il caffè? Io, ho le monete. Che bella l'aria natalizia. Hai già nevicato, hai visto? Caspita. Guarda un po' chi c'è. Giacomo, mi hai fregato. Ti sei scordato una cosa da dirmi. Hai una nuova concessione? C'è anche lei. E perché non me l'hai detto per telefono? Ho fatto una figuraccia? Ho fatto un riassuntino. Ecco, hai capito? Mi ha fregato. E poi se spoileri tutto prima del tempo... Ma lo fa lui. L'ha fatto lui. Però dovevo farlo io. Lo dovevo fregare. Niente. Grazie Giacomo. Ti devo un favore. Un caffè? Caffè. Buongiorno. Caffè dalla Simo. Come buon Natale? Dopo l'8 dicembre se fanno via voi. E' bello lui, sembra il mio avvocato, hai visto? Lo faccio a Piero. Allora ragazzi, tutti al bar che offre Piero. Pum, è svenuto Piero. Ti saluta, un signore, mi saluta. Un signore è una signora di una certa età. Non mi chiedete come si chiamano, mai entrano e mi fanno Buongiorno signora, lei è famosa, assolutamente. Grazie. Lui solitamente. Ciao, 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 ciao. Ciao amica. È Natale, evviva, è Natale. Ci diamo dopo. Non mi spingere. Qua, qua, adobbi di Natale niente. Qua siamo spartani. Siamo field watch. E che fai, buongiorno, niente. Niente, ecco il negozio qua, adesso entriamo. Lui è qua, ok. Non suoniamo, non suoniamo. Ok, è qua, è qua. Che suoni a fa? Niente, è qua, è qua. Ma per usanza magari puoi suonare. No, facciamo la finta, dai. Fai la finta, Giacomo non c'è. Giacomo non c'è. Oh, oh, buongiorno. Facciamo qualcuno dentro. Che suono... Fai finta di suonare. Dentro ho suonato. Allora ragazzi, eccoci qua all'interno della barracchetta degli orologi, no? Con tutti questi pezzi del ferro pieni di ingranaggi. Tranne qualcuno già visto che non c'ha gli ingranaggi lì. Ma c'ha le lucette, c'ha le lucette quello lì. Quindi lo vedremo poi, no? Per voi amanti dell'horror. Quell'amico Giacomo che è il titolare della gioielleria Pasquale Domenici che ci mette a disposizione gli orologi per fare queste anteprime news simpatiche ma anche dei richiami, cioè di orologi che non sono propriamente nuovi ma che magari sono rientrati o sono arrivati in una nuova veste. Sì, oggi è una puntata abbastanza complessa e articolata. Complessa e articolata mi piace perché così Piero non capisce cosa stiamo dicendo. Grazie. E da dove possiamo iniziare? Allora, possiamo iniziare intanto dagliera perché l'abbiamo già fatti vedere, sono arrivati perché li avevamo finiti e qui abbiamo fatto anche gli allestimenti già col cinturino in gomma che ovviamente lo trovate in allestimento all'interno del box, molto carini. Ovviamente si parte dalla versione braccialata e poi all'interno della confezione trovate il suo cacciavitino con il cinturino in silicone aggiuntivo. Praticamente, cioè loro sono questi qua con il bracciale in acciaio e poi dopo ci si può mettere il Tropic che è in dotazione. Sì, è un orologio che mi sta dando soddisfazione perché per fascia prezzo e per qualità di prodotto un po' in tutto l'insieme sia dell'orologio, il packaging, hanno curato tutti gli aspetti del prodotto è un buon prendere secondo me. Miota 9039 se non mi sbaglio, serie 9000. Sì, serie 9000. Orologio simpatico, simpatico. E poi abbiamo qualcosa di interessante. Sì, allora abbiamo una novità, non so se ne vuoi parlare ora o ce la lasciamo. Qual è? A sorpresa per dopo. Eccola qui. Mark & Mole. Oh, è il micro brand che dicevo io, in apertura, che sono nuovi, nuovi arrivi. Te le preparo già, gli leviamo le plastichette perché sono nuovissimi. Le scartiamo insieme ora per la prima volta perché sono appena arrivati. Sono pescati stanotte. Eccolo qua. Allora, qua abbiamo un classico driver. Allora, c'abbiamo nero, blu e poi? E questo che, a mio parere, è quello che mi piace più di tutti. Anche se le colorazioni non sono quelle tipiche di un diver, però si diversifica, diciamo, dall'offerta del mercato e di conseguenza a me mi attira subito l'attenzione. Quindi ti dici che quello più carino è questo qua chiaro, eh? Ma no, a mio parere, lo vedo diverso, lo vedo innovativo nell'allestimento colore. È un colore beige come quadrante con lunetta bordeaux. A me piace molto questo connubio. Praticamente questo qua è un diver. Ecco, il fondello chiuso così è bello. che incassa il Sellit SV200 in versione E-Lavore. La lunetta, l'inserto ghiera è in ceramica, vetro zaffero. 39 mm di diametro cassa. 300 metri. 300 metri. Orologio che, insomma, a vederlo così in mano, no? Come dice qualcuno, dà le sue belle soddisfazioni. Quasi uno di questi. Lo prenderei per portare a casa e farci una piccola panoramica. Chiaramente io non prenderei questo qua che è il tuo preferito. Proprio perché è il tuo preferito, allora non lo prendo, capito? È come vuoi. No, è carino questo qua. Pur essendo chiaro è leggibile, dai. Guarda qua c'hai... No, no, no. È leggibile. Ha un... Ha tanto materiale fluorescente, nello specifico Illuminova, sicché, ecco... Sembrano fatti bene. C'è anche le viti per tenere le maglie in seduto. Beh, dai, simpatici. Sì, quindi questa qua è la nuova concessione. Mark & Morse, micro brand italiano, eh. Sono benvenuto. Tra l'altro, bella scatolina, come vedete... Ah, ecco, la scatola si... Sì, vi arriva in un involucro di cartone, sicché è ben protetta e poi una volta aperta c'è questa bellissima scatola in grigio scamosciato, molto carina. All'interno, anche all'interno è tutta rivestita, come potete vedere. Un po' vellutata proprio. Sì, sì, tutta vellutata con tutto, con tutti i suoi librettini, tutto quello che è. Scatola contro scatola, simpatici, dai. Sì, sì, molto... bravi, bravi. E poi abbiamo qualcosa di ancora più interessante. Allora, sempre sulle novità vi faccio vedere, noi l'avevamo già visto in presentazione, ovviamente, finalmente è in negozio. Eh, questo qua può interessare a molti, sai? Sì, 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 perché... Eh, questo qua può interessare a molti, perché finora il Mido Big Date TV, eccolo qua, è simpaticissimo, era a disposizione solamente in una... In questo, in questo modello non è Big Date. Il Mido TV... Il Mido TV, che in questo caso va a ricalcare le forme del Mido TV Big Date, ma in questo caso non ha la grande data. Vedete che il datario è semplicemente unico, invece di essere diviso in due parti. Però la novità è che la misura è da 35 mm, quindi potrebbe essere quella misura adatta a chi vuole essere un pochino più elegante. No, sappiamo che adesso va di moda il downsizing delle misure, quindi uno vorrebbe sempre qualcosa di più piccolo. Perché mi guardi? No, ho guardato dove cacchio era la data. La data qua su, a ore... La qua su, a ore... Il caso ha voluto che un 12, che sembra che sia il 12. Eh sì, infatti... Ecco, io lo provo anche al polso questo qua, perché 35 mm, guardiamo un pochino come sta il polso degli uomini seri, no? Di quelli che hanno un polso consistente, e non solo quello. Come disse... Oh, mi entra anche, guarda, come disse... Oddio, un po' piccolino ragazzi, secondo me. Per il tuo polso sì. Sì, infatti è stato concepito per un polso piccolo, che poi possa essere maschile o femminile, perché comunque sia l'orologio esteticamente un unisex. Però può piacere anche così, cioè da quella vibrazione vintage, retro. No, tra l'altro con questa forma mantiene tutta la leggibilità, pur essendo una misura piccola, questo è il lato positivo. Spesso, rimpicciolendo gli orologi, si perde un po' la visibilità, la leggibilità dell'ora, invece in questo caso è sempre ben leggibile. Allora, sicuramente il calibro è sempre lo stesso, no? Non è che cambia. No, non penso che abbiano inserito il Power Matic classico. Non lo so, questo qua è un altro calibro. Non c'è scritto calibro 80 sopra, vediamo. Ve lo metto qua sotto nelle sovraimpressioni il calibro che c'è dentro, perché potrebbe essere anche il calibro 72, che è quello derivato dal 2892. Attenzione, 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 attenzione. Va bene, bello, il miglio è promosso. Piccolino, simpatico, simpatico. Certo, ti piace tutto. Poi sempre sulle novità, è un marchio che avevamo inserito diversi mesi fa, si chiama Bublé, è un marchio francese. Questo qui è una nuova versione che è uscita ora con un quadrante un pochino più lavorato, un po' più articolato. È un orologio molto semplice nelle sue forme. Diciamo la particolarità vera e propria sta nelle sfere che hanno questa forma rotonda a cerchio. E poi molto bello invece è il fondello. Ben lavorato, ben visibile, mi piace. Forse mi piace più la parte sottostante che quella sovrastante. Però ecco, è un prodotto ben realizzato. Sì, praticamente questo qua io l'avevo già addocchiato perché ha un calibro francese, made in France. Però lo vedete che ha questa particolarità di avere le sfere piazzate in questo modo. Quella delle ore è quella... Il cerchio piccolo, il cerchio grande sono i minuti. Praticamente così sono le 10 e 10. E quella che corre lungo il Rio sarebbe niente poco di meno che quella dei secondi continui. Vedete come gira. È un simpatico trucco per fare, per leggere l'orario in maniera differente. E anche con poco prezzo. Perché questo qua quanto costa? No, allora in questa versione qui con questo calibro hanno preso un prezzo leggermente superiore. Se non mi sbaglio si parla dei 1.600 euro. 1.500 euro. A differenza invece dei suoi predecessori che sono sempre in commercio che venivano sui 900 se non erano. Vabbè comunque stiamo parlando perlomeno di avere un orologio con un calibro un po' differente dal solito. Eccolo qua. C'ha il ponte del bilanciere. Ve lo vedete che ha due punti che regolano il bilanciere addirittura. Particolare. Scheletrato. Poi lavorato così. Praticamente il rotore, la massa oscillante riprende i cerchi che poi vediamo sul quadrante. Come vedete qua. Dai, non fa nemmeno l'effetto blow perché è abbastanza largo. Il sistema di ancoraggio del bracciale è com'è? Ah, easy link anche in questo caso. Bello. E scusa ma c'è anche un cinturino suo dedicato oppure no? No, no. Allora, si può acquistare o col maglia Milano come ha presentato oggi. Allora o con il suo cinturino in pelle. Quindi esiste uno. Esiste la vera variante si si col cinturino in pelle che si può acquistare o nella fase iniziale di acquisto. Ma sa che non mi dispiace questo rollo gioco pur essendo particolare non mi dispiace mica. Dai. No, dai no. E poi novità ovviamente sono arrivati, sono tre versioni diverse. Oris. Oris Diver 65. Finalmente perché voi che vi mettete a piangere quando leggete 100 metri sul quadrante no? Vi spaventate perché dovete fare le immersioni quelle, no? Come fa l'amico gioco. Personalmente. E allora 100 metri non bastano. Ve l'hanno fatto da 200 metri. Eccolo qua. Loris Diver 65. 200 metri. Con l'inserto ghiera in ceramica. Misura cassa 39 mm. E calibro sellite a 6200 come al solito. Ora sarete contenti. Io con il mio 100 metri ci ho fatto di tutto. Bagni contro bagni. Tuffi contro tuffi. Eh. Anche delle gang bang voi. E non ha nessun senso mai niente. Mai niente. E ora ci hanno fatto questi da 200 per per assecondare il mercato le richieste. Però insomma non poco male. 200 metri rispetto ai 100 è un guadagnetto. Si vocifra e qualcuno è finito all'ospedale per recuperare l'orologio eh. Però. E ora per ora abbiamo queste tre colorazioni no? Nera. Ecco questo qua è più interessante di tutti. Perché c'è il quadrante che è blu scuro e la ghiera nera. Sì. Questo mi piace. È un allestimento che la Oris ha sempre avuto. Il nero blu diciamo così. Lo aveva già sulle versioni Aquis. E tra l'altro ora purtroppo stanno un po' rivedendo. Gli allestimenti. Qualcosa è andato fuori produzione. Poi magari verrà sostituito da qualcos'altro. Facciamo anche la prova al polso già che siamo qua. Oh. Eh bracciale che bello lungo. Là. Bello. Preciso. 39. Ovviamente sul tuo polso da 19 è un orologio. No no sta bene. Sì sì che sta bene ma può tranquillamente coprire un polso anche più piccolo. Poi vabbè ci sono. A questo punto ci sono sia da 40 che da 38. C'erano anche da 42 una volta. C'erano anche a 42. Sono i primi che sono andati fuori catalogo. Hanno fatto bene perché poi ovviamente la tendenza è al ridimensionamento della misura. Sì che hanno fatto bene. Sì più che altro per lo stile di orologio che suona bene così. Mi stupisce il color zeppia. Mi piace molto. Questo? Sì. Io oggi sono contro tendenza sui diversi che. Tutto chiaro ti prendete. Sì. Sono una vecchiaia. Che esprime anche se è uno sportivo ovviamente però rimane un pochino più elegante e un pochino più luminoso anche come orologio. Orologio. Sì. Non è male. Magari sembra anche più grande al polso. Sì. Poi. Poi. Altra novità. Ecco le. Limited Edition. È un orologio che per dirla tutta non era stato fatto per il mercato Italia. però ovviamente non è riuscito ad assorbire tutta la produzione ma sono pochi perché si parlava di duecento orologi non di più. Una parte ci hanno dato la possibilità di acquistarla sul mercato italiano. Secondo me il risultato è molto interessante che questa lunetta di questo azzurro di questo bluettone chiaro. La particolarità di questa di Limited Edition è il colore del quadrante della lunetta. Sì sì l'accostamento quadrante lunetta ovviamente tutto il resto rimane quello classico di uno Zulu da 42. Però ecco veramente bello c'è il valore aggiunto ovviamente di poter accedere a una tiratura molto piccola fatta solo per il mercato europeo. che secondo me potrebbe essere interessante per chi aveva già nel naso di comprare un prodotto come questo. Praticamente questo qua era possibile acquistarlo solamente tramite all'estero. Sì tramite la piattaforma ovviamente a cui era dedicata. Oggi sono stati dati anche a qualche negozio in Italia. Zulu Time, Limited Edition, bello questa cosa. È un blu particolare, ricordo un po' il pepsi delle... insomma dai però bello. Poi altra novità, un Rallygraph in versione con cassa PVD dorata, ovviamente a contrasto sfondo nero, molto particolare, molto bello l'accostamento. Si parla di un orologio ovviamente... Mecha Quartz questo. Mecha Quartz che ha un prezzo di listino abbastanza contenuto. Carina l'estetica, il pulsantino quadrato, c'è tutta una serie di dettagli che secondo me lo valorizzano. Mecha Quartz, cosa... Praticamente c'è la batteria dentro, c'è, ha tutto il sistema a quarzo per regolare la parte tempo, però la parte cronografica ha la lancetta che scorre, lo vedete, che praticamente è fluida, perché c'è un paio di ingranaggi in più che la fanno scorrere fluida, e quando la si stoppa e la si resetta, torna allo zero come fosse un orologio meccanico. Puff, di botto. Sapete benissimo che gli orologi a Quartz quando te li resetti fanno tutto il giro in senso orario e tornano lassù, fanno proprio... Ho visto io che fanno... Bello questo qua, dai. Simpatico. C'è la macchina di Formula 1 dietro, perché? Classic racing school. Classic racing. Perché è un cronografo sportivo. Bello, dai, simpatico, simpatico. Poi... Due citizen in tiratura limitata, uno ovviamente un pochino più interessante, con acciaio PVD nero. Mamma mia come è squadrato questo bello. Citizen della serie 8, questo qua con il calibro 90-53, praticamente il GMT, lo vedete che ha la sua bellissima sfera, la suncima. Cassa in acciaio nero PVD e 2200 pezzi mondo, simpaticamente. Questo orologio qua mi ha sempre sorpreso per la capacità di mostrare queste spigolature particolarmente, sia in quello in acciaio normale che in questo PVD, che sono veramente particolari. 2200 pezzi mondo per questa edizione limitata, che vedete, ha la sfera GMT che viene trascinata dalle sfere normali, mentre nella posizione intermedia poi gira solamente la sfera delle ore. Citizen serie 8, calibro 90-54. A me mi piace questo qua. E c'è la particolarità di avere la lunetta in bicolore, nera e blu sotto. Bello assai. Eccolo qua, acciaio inox normale per la cerniera interna. Ti stai picchiando? Sì, e poi un altro modello, un ecodrive, ovviamente non è un automatico. Questo qua è per Piero. Questo qui è un titanio trattato ovviamente full black, anche questo. Nello specifico questo qui è un GPS, con tutta una serie poi di funzioni, anche questo in tiratura limitata. è un oggetto molto particolare, leggerissimo, proprio grazie al materiale. Sì, infatti io sto spingendo i pulsanti a caso e non ci capisco niente. No, no, perché ha diverse funzioni, ovviamente la regolazione GPS per la rimessa oraria. Qua bisogna proprio leggere il libretto delle istruzioni. Perché anche se qualcuno ti telefona e ti dice, mi scusi signor Giacomo, mi spiega... No, ho tentato di farci il caffè, prima mi sei bruciato. No, vabbè, sono quegli orologi che servono, le persone che servono, la gente che piace, perché insomma, tutte queste funzioni qua, GPS, fa un po' vuoi dire... Attesa si chiama. Attesa. Il modello si chiama Attesa. Sì, perché devi aspettare per leggere l'ora. Devi aspettare per leggere l'ora. Ti ha sempre furia. Ragazzi, eccolo qua, bellissimo, Citizen Echo Drive. Che materiale è questo? Titanio? Titanio, sì, super titanio. Come al solito, però tutto in pivi di nero, ma anche particolarmente... Poi l'avevamo già visti, ora sono presenti in negozio le versioni tutte acciaio del Casio, ovviamente G-Shock. Quello con la lucina. Quello con la lucina che ci piace tanto. Piero, sei già alzato, sei già alzato Piero. Voglio fare anche due foto dopo. Ah, questo qua. Sì, sì. Questo è una colorazione celestino, esiste un arancio, un quadrante nero, c'è diverse soluzioni di allestimento. Stanno andando per la maggiore questi casi, ovviamente. Davvero? Sì, sì. C'è l'involucro di un orologio tradizionale, però con le funzioni del classico G-Shock. Ovviamente, essendo un G-Shock, la resistenza fa da padrona. E via dicendo. Quello sappiamo. Sì, ah bene. Noi qua facciamo vedere gli orologi adatti a tutti i gusti, no? Anche a chi vuole... Sì, diciamo che nella mia visione del mio negozio mi piaceva avere, per poi servire l'orologeria a tutto tondo, come si dice, è un prodotto digitale, analogico digitale. Ho sempre reputato che il migliore sul mercato, anche quello più di tradizione, fosse Casio. Lo fanno ormai da sempre, hanno sempre fatti bene, sono orologi veramente resistenti. Si può dire che quando finiscono nel cassetto è perché vi hanno stufato, ma non perché si sono rotti. Perché veramente sono indistruttibili. Benissimo! Viva il Casio! Poi ci siamo lasciati in fondo, ovviamente, i pezzi un pochino più importanti. stanno rientrando perché veramente per mesi abbiamo fatto fatica a riceverli. 50 Faton da 42 mm, marchio Blampen, ovviamente. Blampen, 50 Faton, 42 mm, guardate qua. Cassa titanio, leggerissimo. Nello specifico questo è allestito cinturinato nato. Bello, la sfumatura del quadrante, anche qua con l'accoppiamento, con l'inserto della ghiera, è veramente una bella accoppiata. Anche questo qua si potrebbe provare tranquillamente. Ora il nato, questo qua c'è solo con il nato oppure? No, cinturino gomma, bracciale acciaio, ci sono tre allestimenti diversi. Due colorazioni di base, che sono il blu e il nero, per tre varianti di allestimento. Insomma, tra tutte le varianti è offerta abbastanza ricca. La casa madre ci tiene a specificare che non è una riduzione di misura del classico 50 Faton, del re dei subacquei, da 45 mm, ma è proprio un modello totalmente nuovo che si va da affiancare all'altro. Sì, 42 mm. Ecco, queste qua sono già misure un pochino più nelle corde degli appassionati, che spesso si fermano di fronte alle misure, anche i cronografi sono anche da 43, 43 e mezzo li fanno i cronografi, no? Perché sono orologi che devono essere anche abbastanza importanti al pulso. 43 i Batiscaff. Eh sì. Sì, però questa è 50 Faton proprio. La linea 50 Faton è quella proprio classica, storica, che è sempre stata fatta in 45. Poi ci sono state delle varianti in tiratura limitata cassa da 40, però erano spot di 500 pezzi mondo, quello con il simbolino dell'anti-rad, del no-rad. Con la scatola gigantesca. Sì, sono state diverse versioni, 40 mm. Ora, finalmente hanno inserito una 42 però con ansa molto corta, sicché molto molto portabile, che è questa qui, e è ufficialmente in catalogo, così che non ha tiratura si può acquistare liberamente. E poi abbiamo ancora qualcosa di più piccolo, come diceva. Più piccolo questo l'abbiamo lasciato, è il pezzo da 90, io direi. Sì? Sì, perché è un cronografo da 36. 36 mm! Questa quella è Air Command. Sì. E allora, quando si parla già di cronografi da 38, che sono pochi in commercio, ci stupiamo. Qui addirittura ha 36. Cioè, 36 è un piccolo capolavoro di ingegneria. Ah, scuola, questo qua, allora, 36 mm, ha il calibro all'interno derivato dal Frédéric Piguet, figuratevi un po'. E lo si vede anche dietro, guardate la lavorazione qua, con il rotore fatto ad elica. Questo ce l'hanno anche le versioni grandi, nello specifico queste qui sono due misure, perché ha una tiratura limitata. Quello da 36, e poi esiste il suo fratello più grande da 42, se non ho sbaglio. Però io ho preferito prendere la versione piccola, perché secondo me è un piccolo capolavoro. È un piccolo capolavoro, ricordiamo che è flyback, cioè diamo la via al nostro simpaticissimo cronografo, che in questo caso è tutto meccanico, non come il mecaquartz come prima, brutto e fingardo, ma è tutto meccanico, diamo la via al cronografo che parte tutto simpaticamente e così, e poi se noi premiamo il tasto d'ore 4, puffete, si a zera e riparte, flyback. Ora l'unico svantaggio di questo orologio, se vi posso permettere di dirlo, sapete qual è? La leggibilità. No, cazzo si legge benissimo. Bella che cosa vuole rompere le scatole a questo bellissimo orologio. Che mancano i secondi continui. E che ci fai con i secondi continui? Non ci fai niente, non ci fai niente però. Cioè mentre sei in volo con la cloche in mano, le vibrazioni, il guanto, tutto quello che ti pare, te vuoi vedere i secondi continui? Sei già morto schiantato da qualche parte. Voglio vedere la roba che gira sul quadrato. Ti fanno il flyback apposta per risparmiare quei millesimi di secondo e te vuoi il secondo continuo. Sai cosa faccio io? Lo rubo. No, scherzo. Iiii, con quel polzone, questo è fatto per quei polsi leggeri. Se avessi fatto per porsi la signorina perché ragazzi allora se avete un polso a 19 sappiate che il cinturino non vi arriva. Non vi arriva, bisognerà chiedere un cinturino più lungo. È piccolo, è 36. 36 è piccolo, sì sì, è un orologio veramente piccolo ma eccezionale. Sono tutte cose che dovete provare al polso perché voi che amate queste piccole dimensioni potreste trovare in questo orologio la... Quanto costa? 21.900. C'hai un caffè pagato, se lo compri c'hai un caffè pagato dalla Simone. Va bene dai, ragazzi qua abbiamo visto tutti gli orologi, no oggi? Sì, allora quello che è diciamo un po' le novità e rientri, fermo lì, subito te vai a... a sfrugolare tra gli orologi. Allora, due orologi che sono rientrati che mi avete chiesto un sacco di tempo. Allora, uno è il Seiko Speed Timer, sono gli ultimi, mi sono rientrati, mi sembra avere due pezzi, me l'avete chiesto in tanti, li ho a disposizione, sicché ci potete chiamare se lo volete. Quello Speed Timer diciamo in versione POG con il quadrante come il 6139 famoso degli anni che furono, quindi questo qua è molto richiesto. Sì, questo è molto richiesto, è esaurito. Sicuramente per via dei giochi cromatici che offre, perché altrimenti non è differente dagli altri Speed Timer normali, proprio i colori che vanno per la maggiore sicuramente. Bellino un orologio. Sì, perché riprende lo storico. Sì, per quello, qualcuno vuole omaggiare quel modello e si lancia su questo qua, che pur essendo al quarto, insomma, può avere anche la sua posizione in una collezione. Il cronografo da utilizzare preso, pronto all'uso, fin tutta, va bene, ed è simpatico, promosso, dai. Poi, altro orologio che, ringrazio, la Rado ha reperito nelle boutique di Mezzomondo, eccolo qui. Il Overpole. Capitan Cook Overpole, che poi altro non è che onore del mondo. Oh, questo qua è un 37 mm, con il calibro manuale, manuale derivato dal calibro 80 di Rado. Eh, sì, sì, sì. Allora, vi ho detto una bugia, me ne erano già rientrati due pezzi, li ho venduti, mi avete richiamato, lo volevate acquistare, non ne avevo più, vi ho detto che non sarebbero più arrivati, però la Rado ha fatto un miracolo, ora ne ho qualche altro pezzo a disposizione, loro mi hanno detto che dopo questi, questi qui sono qui di Gesù, dopo questi non ce n'è più, e poi ovviamente questa è la sua piccola confezione, e dentro, interessante, c'è il suo bracciale a chicco di riso, che potete ovviamente sostituire al cinturino in pelle. C'è tutto insieme? Sì, sì, è tutto nel kit, è sempre stato tutto nel kit, sicché... Perché io, l'astrologio qua, non ci ho mai fatto la video recensione, perché non me l'avevi messo a disposizione. No, perché sono andati via come... Ora non avrebbe nemmeno senso farcela, perché ormai... No, ormai sono gli ultimi. Però è bello. Ora, a proposito di questo bracciale qua, hai visto cosa è uscito? No, cosa è uscito? Il Vulcan Autic con il bracciale a chicco di riso. Ah, fatto... Così, uguale dentro. Si vede che hanno fatto la prova con il bracciale quello lì, poi mi hanno detto, ma sarà meglio che andiamo a fare come tutti quegli altri che fanno chicco di riso? Eh no, bello, lo vedi è bello. Vabbè, io avevo già mosso le mie perplessità su quel bracciale, e oggi esce il chicco di riso, forse poteva essere la prima scelta, andava già meglio. Hanno voluto fare qualcosa per diversificarsi e questo ovviamente le premia, eh? Sì. Perché poi scopiazzare, fare, brigare è facile un po' per tutti. Perché come adesso è lì, li vedi tutti a chicco di riso, questo, il Longinier Legend Diver, quello là, quell'altro, suoi giudici, faccio qualcosa di diverso. No, ma poi essendo tutti come natura un po' skin diver, alla fine poi sembrano un po' tutti uguali, no? Sicché diversificare, secondo me è sempre la scelta migliore, poi purtroppo è anche quella più rischiosa, perché a volte si diversifica e si fa, si toppa. Però in questo modo ti danno due possibilità, perché se uno vuole andare... Logico, un allargamento di linea, più possibilità, più rotture di scatole per i concessionari, bene. È felice che non c'è mai quello che vuole il cliente, però va bene, noi siamo qui anche per quello. Certo. Ok, detto ciò, un cliente si è lamentato, sicuramente ci guarda, perché è un follower che siamo molto precisi, a volte diamo delle risposte un po' sintetiche via mail, via Whatsapp, io vi assicuro che abbiamo 100, 200 messaggi a volte da aprire uno dietro l'altro, sia per mail che per Whatsapp, di conseguenza le risposte sono molto sintetiche. Se volete una conversazione più dinamica, più attiva, non guardate i messaggi che devono essere sintetici per una questione di tempo, anche perché voi ci scrivete con le mail, a volte vi firmate anche, ma noi non vi riconosciamo, perché ovviamente leggiamo un testo, non andiamo a vedere se siete un cliente storico, se siete un cliente nuovo, chi siete e chi non siete. rispondiamo semplicemente dando la risposta secca e dura a quello che ci viene chiesto. Se però avete cinque minuti di pazienza, ci chiamate, gli operatori sono sempre disponibili, magari non al prima telefonata, perché magari sono occupati, però per telefono è tutto più dinamico e ovviamente personalizzato. questo è, non lo facciamo per cattiveria, che vi assicuro che è veramente difficile rispondere a tutti, avrai bisogno di 100 persone, ma se io pago 100 persone, non mi faccio lo scontino. Giusto? Vabbè chiudiamo qua dai. Chiudiamo qua, che manca? Ah, manca, Black Friday finito, da mo', ovviamente non troverete più gli orologi in promozione, perché ormai tutto lo sforzo è concentrato al Natale, agli orologini che sono presenti nei cataloghi, potete ordinarli, tanto li abbiamo presenti, sicché per chi non avesse comprato durante il Black Friday e ha già messo il pacchetto sotto l'albero, avete la possibilità di concentrarvi su tutte le nostre marche e tutto il catalogo. Unico orologio che su chiamata potete ancora comprare, pochissimi pezzi sono rimasti, la nostra produzione. Oh, il Vulcan Nautique Cricket. Quello da 300 metri di impermeabilità, con lo svegliarino, con la doppia cassa, con il fondello che fa la risonanza, qua si imposta lo svegliarino, qua si imposta la ghiera interna, c'è anche la carica manuale. La scala di decompressione, e i colori esclusivi, che sono l'arancione e il nero, che non potete trovare su nessun altro modello di Vulcan Cricket Nautique, questo qua è stato fatto in 30 pezzi mondo. 30 pezzi mondo, e sono rimasti veramente pochissimi pezzi, tra l'altro nell'ultima parte del Black Friday l'abbiamo anche ribassato di prezzo, non lo troverete più in nessuna offerta sul nostro sito, però avendocene ormai pochi pezzi, potete chiamare e vi manteniamo l'offerta Black Friday, sicché ecco, per chi fosse interessato a ultimi colpi, per chi lo volesse mettere sotto l'alberello. Ah si, Vulcan Nautique. Tra l'altro ecco, se vogliamo aprire un'analisi del marchio Vulcan, quando io ho acquisito il marchio, tutta la collezione era sviluppata sui modelli Cricket, che poi è la loro particolarità, cioè lo svegliarino, il famoso grillo, e ovviamente erano tutti orologi che partivano da 4.000 euro a salire, l'oggetto di punta era questo qui nella versione nera, nella tiratura a mille pezzi che loro avevano in catalogo, oggi tra l'altro loro l'hanno anche rifatta, se andate sul sito Vulcan o sul nostro non più, lo trovate nella versione nera e questa era una variante. Poi dopo la casa madre ha fatto una scelta, ovviamente ha deciso per muovere il mercato, per fare attenzione sul proprio marchio, di abbassare il livello di prezzo, in primis con lo Skin Diver che è un orologio comunque a 1.600 euro, è stato fatto il Grand Prix che è un orologio da 1.200 euro, e tutto questo ovviamente ha fatto aumentare le vendite e l'attenzione sul marchio Vulcan, ma ha abbassato il livello di prezzo della marca, di conseguenza oggi comprare un orologio Vulcan a 4.500-5.000 euro può sembrare tanto, perché comunque si può acquistare un Vulcan a 1.600 euro, però non avete le particolarità del marchio, la particolarità del marchio non è avere un orologio che monta un sellita, ma avere una meccanica con lo svegliarino di manifattura Vulcan. Abbiamo capito, gli ultimi rimasti di Vulcan, Nautical Cricket sono qui, e poi dire basta adesso... Gli usati? Gli usati ne ho uno solo a questo giro, però polposo eh! Ah ce l'hai portato qua? Certo l'ho portato qui, ma dopo se no te me lo vai a cercare per tutto il negozio! Facelo vedere dai! Via! Eccolo qui! Guardiamo un pochino cos'è! Che cos'è? Coroncina! Ecco fatto! Coroncina! Per gli amanti della coroncina, degli investitori, di coloro che vogliono mettere un bello orologio in cassaforte! In cassaforte! Sì perché al polso ve lo rubano! Però... Eccolo! Che cos'è? GMT Batman! 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 Allora leviamolo il mantello e facciamolo vedere! Eccolo qua! In mutande lo facciamo vedere! Rolex GMT Master 2 Batman detto perché ha la lunetta bicolore! Braccialato Oyster che come sapete viene proposto in due versioni, col Jubilee e con l'Oyster, questa è la versione Oyster! L'Oyster praticamente... Che differenza è questa? La sappiamo! Certo che la sappiamo! Sappiamo tutto noi! Eccola qui! Ti prendo la sua garanzia ufficiale! 126! 126 710 BLNR! Quindi è nuovo! Di che anno è? Questo è un 2024! Porco Giuda! Sì! È un aprile 2024! Sicché è un orologio veramente nuovo di quest'anno! Ha ancora tutta la garanzia attiva Rolex da poter sfruttare! Tutto corredato di scatola, garanzia, tutto quello che serve! L'orologio è stato portato poche volte ha dei piccoli segnetti dovuti ovviamente all'uso! Nella parte lucida sulla clasp c'ha due veramente microsegni che si potevano levare semplicemente con una passata di spazzola ma che non abbiamo voluto fare! Ci siamo anche interfacciati con il nostro orologio e abbiamo preferito lasciarlo così! Sì! Se poi il proprietario che lo compra vuole lo fa! Se vuole si fa veramente in pochi vi dico anche come funziona! La parte satinata che è quella poi più complicata da essere ripresa è perfetta! C'è questi microsgrafi sulla parte lucida sicché basta cerottare la parte satinata per proteggere e passare un po' di spazzola sulla parte lucida e torna a specchio! Non l'abbiamo fatto fare se volete ve lo possiamo far fare però io sono sempre dell'idea che se non sono segni brutti che se non sono brutture da vedere è sempre meglio lasciarlo così come si trova! Se mi metto a toccare un orologio del 2024 addio dove andiamo a finire? Dai bello il Batman poi il GMT! Se volete chiamateci vi diamo tutte le informazioni di prezzo ovviamente ancora uno di quei pochi pezzi perché sappiamo che il mercato Rolex è entrato un pochino in crisi dopo ovviamente l'euforia degli ultimi anni Ancora il Daytona ancora questi GMT sono orologi ancora abbastanza ambiti che non si trovano dai concessionari sicché mantengono un prezzo un pochino più sostenuto però io ho fatto anche un check su tutti i siti sui grandi portaloni lo fiamo ancora a un prezzo interessante sicché ci sta! Guardiamo come mi sta il GMT dai! Oh! D'aumento sto qua eh? D'aumento si! A me non mi fa impazzire il GMT però simpatico sicuramente c'è c'è la coda di persone a cui fa impazzire quindi non è un problema questo! Va bene dai ragazzi io esco con questo quadrito così non so la sega di Giacomo ma esco! Vabbè ragazzi allora la puntata finisce qua io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube! Love! E' grosso però eh! Come disse? Cicciolina! Cicciolina! Ricorda un migli orologio! Ricorda un migli orologio! Grazie a tutti.